Ebbene, eccoci alla prima puntata del 2019 di Qui Pineta Terra. Un augurio a tutti voi cari amici ascoltatori di un positivo, costruttivo anno per tutti quanti. Ovviamente dal sottoscritto Mauro Caruso e da Ludovica Di Chiara buon pomeriggio e buon anno. Buon pomeriggio e buon anno. Allora, apriamo questa prima puntata dell'anno 2019 dopo la puntata che a dicembre abbiamo chiamato un Vangelo sottoscorta dal titolo di un articolo del blog del nostro ospite appunto di dicembre Flavio Ciucani. E continuiamo oggi a parlare cari amici di spiritualità, anche se in una forma a cui non siamo avvezzi. Perché? Perché parleremo del fenomeno della visita extraterrestre che solitamente non si è abituati ad abbinare ad un discorso spirituale, perché la si vede più come un fenomeno magari l'unicamente di interesse scientifico o solamente di interesse umano, ma il fenomeno della visita extraterrestre sul nostro pianeta ormai da molte fonti viene considerato, accreditato come portatore di un messaggio importante per l'umanità, di carattere spirituale, un importante messaggio che molti ormai collegano anche a quanto riportato nei testi sacri sia cristiani che di altre culture. Visita extraterrestre dunque da ogni parte del mondo e da diversi anni a questa parte sembrano infatti essere aumentati casi di avvistamento di velivoli e oggetti particolari non terrestri, non convenzionali nei nostri cieli, così come anche le testimonianze di persone che riferiscono loro esperienze di contatto o di incontro con esseri provenienti da altri mondi. testimonianze militari e civili fanno pensare che si tratti di avvenimenti reali, non di illusioni o di meri credenze. La loro presenza sul nostro pianeta sembra abbia una valenza molto importante come ha detto Mauro sul piano spirituale ed è per questo che abbiamo deciso di approfondire questo tema con il nostro ospite che già da molti anni vive un'esperienza di testimone filmando straordinari immagini di questi oggetti volanti ed anche avendo come presso ci racconterà esso stesso una sua esperienza di contatto e di comunicazione con questi esseri che ci visitano. Esattamente Rudovica e stiamo parlando di Antonio Urzi, magari molti di voi lo conosceranno perché ha anche partecipato peraltro anche molto recentemente in una famosa trasmissione televisiva in onda sulle reti media, ma insomma diverse volte è apparso anche sui maggiori media nazionali. Antonio Urzi e anche internazionali, giustamente mi corregge Rudovica perché ha girato il mondo, penso insomma in diverse parti del mondo, è andato a portare la sua esperienza, a farla conoscere. Allora di lui il ricercatore del nucleo sirio, che è una sigla che sta per studio investigativo ricerca indipendente operativa, questo ricercatore si chiama Giuseppe Garofalo, ha detto abbiamo riscontrato che la sua esperienza, parla di Antonio Urzi, è vera, è un'esperienza vera e ha una valenza veramente importante. Nella storia dell'ufologia classica, ma anche moderna e attuale, dice che non c'è mai stato un caso così complesso e articolato come quello di Antonio Urzi e Simona Sibilla. Simona Sibilla, per chi non conoscesse Simona Sibilla, stiamo parlando della moglie di Antonio Urzi che assieme a lui condivide questa esperienza di contatto con questa realtà extraterrestre. Dicevamo, un caso così non c'è mai stato perché racchiude una grandissima serie di elementi, tutte praticamente le tipologie conosciute, diciamo di contatti extraterrestri, conosciute nelle esperienze sia di contatto che di avvistamenti, in campo non solo civile ma anche militare. Quindi già in collegamento con noi, un benvenuto ad Antonio Urzi e qui piena terra. Benvenuto Antonio. Buonasera Ludovica e buonasera Mauro, un grande onore e un piacere partecipare a questa fantastica trasmissione. Ti ringraziamo, troppo buono, l'onore è nostro. È nostro. Siamo veramente contenti, innanzitutto ti ringraziamo davvero, come ha detto Ludovica, di aver aderito al nostro invito e siamo onorati e anche emozionati insomma di parlare con te che hai un tipo di esperienza così particolare, così unica forse, no? Da un punto di vista umano. E proprio noi, ecco, vorremmo che tu ti presentassi un poco ai nostri ascoltatori, a chi magari non ha mai sentito parlare di te. Ecco, ti invitiamo se vuoi un poco a parlarci di come è nata questa esperienza, quando hai iniziato a avere questo tipo di esperienze, di contatti nel vedere le astronavi e poi anche quando hai iniziato, perché tu riesci ad avere anche questo, ad avere una forma di contatto e di comunicazione con questi esseri che ci visitano. Sì, è così. Guarda, dopo tanti anni Mauro, io penso che sembra una storia di un film, perché se trovassi un regista, un regista ascoltasse questo programma, dove mi dà la possibilità di spiegare quello che io ho vissuto e che ancora oggi vivo, mi rendo conto che potrebbe essere la sceneggiatura di un film di Hollywood, perché è incredibile e fantastica. Immaginiamo, sicuramente. E quindi io con piacere ti dico, ovviamente in pochissime parole, ti racconto quello che è stata la mia vita e che è la mia vita oggi. Ti posso dire che è un'esperienza fantastica che mi accompagna da sempre e che vorrei condividere con il mondo intero, perché questa verità, questa realtà è di tutti. Non è solo mia che io ho avuto il privilegio di viverla da sempre, fin da quando sono piccolo, ma mi rendo conto che tante anime oggi, tanti ragazzi, ma anche gente di una certa età che da niente a 50-60 anni si risvegliano e dicono cavolo voglio prendere questo percorso, voglio capire, voglio studiare, voglio approfondire. Io sono eccitato quando sento questa gente, perché posso finalmente condividere con il mondo intero tutto quello che è stata la mia esperienza anche di sofferenza in questi anni. E ti posso dire, guarda, io ho 45 anni, a luglio faccio 46 anni, vissuti intensamente come se fossero 89-90 anni. Perché? Perché vivere con questa realtà e vivere il nostro ambito esistenziale per come lo conosciamo è molto difficile. Non a caso io ho iniziato, sicuramente perché gli esseri, i fratelli dello spazio lo sapevano, mi hanno fatto una preparazione profonda fino dalla tenera età e oggi mi rendo conto che è stato volutamente un percorso obbligatorio per far sì che oggi potessi affrontare quello che oggi vivo, ma anche il pubblico che è sempre più numeroso, lo potessi affrontare con una certa tranquillità. Perché una persona che ha un'esperienza con questi esseri ti garantisco che l'eccitamento va alle stelle e si rischia di entrare nel fanatismo. Invece bisogna stare con i piedi per terra, essere razionali, perché di fatto non stiamo parlando di una cosa astratta, stiamo parlando di un qualcosa di oggettivo, di concreto, di ponderabile, dove tutti e nessun escluso possono dedurre che si tratta di esperienze reali, di fenomeni reali. E c'è tante persone come me, attenzione, non sono solo per fortuna. Ci sono altri che hanno esperienze di contatto e che riescono anche a fotografare, a filmare questi verivoli non convenzionali, come vengono chiamati, no? Sì, non di certa qualità come ho fatto io in questi anni, come ho avuto modo di filmare in questi anni, ma c'è tanti giovani oggi che sono candidati appunto a filmare, a immortalare questi film incredibili in tutto il mondo. E io sono felice perché non mi sento solo e mi dà forza, perché a volte il conforto prevale sul buon senso e sulla buona volontà, perché comunque sono umano anche io a tutti gli effetti, per quanto, poi magari possiamo entrare nel dettaglio, ma ho una sfumatura spirituale molto profonda, antica, però vivo la terza dimensione, vivo la materialità a tutti gli effetti come tutti voi, con tutti i tre effetti. Quindi diventa anche difficile vivere esperienze di un certo tipo e avere l'approccio con la società attuale che tutti conosciamo. Però tu per questo, come hai detto, sei stato preparato, sei stato preparato da tempo, sin da quando eri piccolino, da questi esseri, perché per servire una causa che loro ti hanno indicato, tu in un'intervista hai detto, e questo conferma che poi tu, se ci potrai approfondire quello che noi abbiamo detto all'inizio, cioè il motivo per cui abbiamo voluto questa intervista, cioè che abbiamo detto il motivo spirituale, perché tanto che tu dici, appunto in una recente intervista, in un'intervista perlomeno che ho visto, che il primo segno che hai avuto nel loro contatto, quando eri piccolino nella tua stanza, è stata una croce sul muro. Assolutamente sì. Una croce bianca. Sì, non proprio sul muro, ma davanti a me, al centro della stanza, poco indietro, in prossimità della finestra, scostata dalla finestra e quello segnò tantissimo il mio percorso e mi scioccò. Mi scioccò al punto che ancora oggi me la ricordo come se fosse stamattina, una cosa fortissima che ha un significato spirituale, mistico spirituale, molto profondo e che è la causa prima oggi di quello che è la mia vita. Cioè io vivo per questa verità spirituale profonda. Bellissimo. Quindi qual è stato il messaggio, cioè qual è la missione per cui ti hanno preparato? Beh, negli anni tu come puoi ben immaginare un ragazzetto, un bambino di 5-6 anni che vede un episodio del genere, fisico, non una visione, un episodio fisico. Tra l'altro io coinvolsi mia madre quella notte e io mi ricordo tutto, ogni dettaglio, anche i minuti che scorrevano posso contarle sulle dita. Era talmente… cioè il tempo si annullò in quel momento. Io mi ricordo come se fosse ieri tutti i passi, da quando io mi sono alzato dal letto, da quando io ho avuto la visione, visione fisica, da quando è durata, quanto è durata circa un minuto che io istasiato vedevo questi raggi, vedevo questa croce del colore di un neon che tutti noi conosciamo come la luce che emana un neon senza alone, quindi vedevi la luce nitida e poi questi raggi dal centro della croce che ondulavano e si interrompevano a metà dell'asta della croce. Quando mi rendo conto che era una visione fisica, non stavo sognando, in piedi sul letto, a sedere sul letto, chiamo mia madre, tant'è vero che mia madre corre, perché io dormivo in sala, non avevo la camerina, dormivo in sala, alle spalle della porta della camera di mia madre, mia madre viene, mi ricordo ancora la vestaglia rosea, rosata, mi ricordo tutto, lei urla e la luce pian piano si assopisce e anche lei l'ha vista. Anche lei l'ha vista, quindi hai avuto la riprova. La prima testimone. La testimone per eccellenza è mia madre, perché comunque mi ha accompagnato tutta la vita insieme al mio padre, perché poi da lì è stata un escalation di esperienze incredibili con le astronavi che si fermavano in pieno giorno nei Lidi, come tutte le stazioni balneari, le città che sono situate sul mare hanno le stazioni balneari e tutti noi puntualmente da giugno fino a settembre non trato andavamo al mare. Ecco, in quel periodo là mi ricordo benissimo le varie manifestazioni di astronavi, sia di giorno che di notte, alla presenza di tantissimi testimoni oculari. Questo sin da quando eri ragazzino? Si parla di 5-6 anni che io mi ricordo, mia madre dice ancora prima, ma non mi ricordo altri episodi. Mi ricordo qualcosa dopo la nascita di mio fratello che avevo 3 anni, mi ricordo addirittura il giorno quando mio padre mi portò per la mano che quella mattina nacque mio fratello primo maggio e andammo su a portare una scatola di cioccolatini e mi ricordo anche il colore. Da quel momento lì io mi ricordo le esperienze, mia madre dice che te eri piccolissimo, guardavi per aria, ridevi, ma non mi ricordo. Quindi questo è molto importante perché tu ci hai citato prima questa tua prima esperienza di carattere spirituale, indubbiamente che hai avuto tu e poi peraltro hai avuto il riscontro anche di tua madre, per cui ti ha confermato che l'esperienza che vivevi era reale. Però è molto importante anche tutte queste altre esperienze di questi avvistamenti, di queste manifestazioni oggettive che vedevi tu assieme ad altre persone in luoghi pubblici. Assolutamente sì. Mia madre, tant'è vero, mia madre e mio padre erano imbarazzati e mortificati perché c'era questo bambino che oggi, grazie al cielo, veramente è un miracolo che io oggi, quello che io vedevo al tempo, oggi riesca a filmare e sono bene o male gli stessi velivoli. Quindi è un punto avvantaggio anche per loro perché perlomeno anche loro possono dimostrare, testimoniare agli altri che quello che loro vedevano al tempo oggi riescano a vedere attraverso i video e loro si ripugniamo. Oggi me lo dicono, qualche anno fa me lo dicevano, noi ci vergognevamo perché eri l'unico che non andava a giocare a pallone, ma eri isolato, ti alzavi la testa e c'era questo oggetto o nero o metallico o di luce fermo sopra di te. È bellissimo, è una storia, è un film si sta da vedere. Però posso dire che oggi quello che al tempo vedevo e non potevo dimostrare agli altri, oggi posso dimostrarlo attraverso i filmati. Perché è filmato? Certo, perché hai… Certo. Quindi ti hanno detto cosa volevano da te? Non me ne hanno mai detto cosa volevano da me, se non quando ho incontrato lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, che oggi lo considero mio padre spirituale e che mi ha aiutato tanto nell'affrontare l'aspetto del contatto aiutandomi a superare un po' il trauma, perché nel 2007 ho avuto dei problemi inerenti a delle paure interiori e anche per quello che comporta un contatto fisico, io ho avuto delle paure e Giorgio mi ha aiutato. Ma prima di questo bisogna andare indietro nel tempo e far capire agli ascoltatori qual è stata l'esperienza che mi ha portato a Giorgio Bongiovanni, che magari qualcuno non lo conosce. prego se lo vuoi raccontare. Sì, in sintesi, quando io vivo queste esperienze da piccolo, me le porto avanti per qualche anno, fino all'età di 12-13 anni, perché l'ultimo disco volante che io ho visto, l'ho visto circa nell'84-85, avrò avuto 12 anni, io sono nato nel 73, 12-13 anni e non a caso l'ultimo disco volante è stato il primo che si è manifestato a Cenisello Balsamo davanti alla mia telecamera, il 3 giugno, mi pare, il 3 giugno del 2004. Quindi c'è stata una pausa? Il 4 giugno del 2004. Una lunga pausa, poi dopo aver parlato con Giorgio Bongiovanni e averti lui aiutato, hai ripreso a vedere questi velivoli. Sì, questo dopo, ma io rinizio a vivere le esperienze, perché da 12-13 anni, come ben sapete, il ragazzino inizia a fantasticare le prime fidanzatine, le discoteche della domenica pomeriggio, entri nella bella società, tra virgolette, che tutti conosciamo. Quindi mi rimane nel cuore tutte quelle esperienze che mi sembravano solo per me, uniche e nessun altro poteva vivere, perché a quel tempo, si parla di anni 80, non se ne sentiva parlare pubblicamente in tv di extraterrestri, o perlomeno io non ero alla ricerca e non c'erano i mezzi che ci sono oggi. Qualche piccola tv privata. Sì, però era sempre di nicchia, io ero un bambino, mia madre di certo non andava alla ricerca di informazioni su quello che vivevo e quindi è stata una cosa un po' intima che mi sono portato poi avanti dopo dieci anni e si parla, siamo nel periodo del 93-94, quindi dall'83-84 che io tralascio queste esperienze meravigliose che mi rimangono nel cuore ma anche con nostalgia, perché nemmeno un sogno facevo inerente o un incontro di notte con questi esseri meravigliosi. Me lo ritrovo poi nel 94, quando non a caso, che per me non è a caso, è un progetto, trovo su una rivista l'esperienza incredibile di Giorgio Mangiovanni ed Eugenio Siracusa. Certo. Quindi due persone che parlano di Cristo, della Vergine Maria, ma parlano anche degli extraterrestri. e io quando ho scoperto questa cosa dico cavolo, ma sono cose mie, mi appartengono, sono cose intime e da lì io mi innamoro, cioè mi innamoro di questi due personaggi e di fatti da quel tempo lì io siamo nel periodo del 94, sì 93-94, in quel tempo lavoravo come animatore performer nelle discoteche italiane, avevo un gruppo di ballo eccetera eccetera, da lì lascio di nuovo le discoteche e mi dedico esclusivamente al mio lavoro quotidiano che era prima a vetraio, sono stato in vetreria, specializzato specchi di arredamento e tante altre cose, quindi tecnico vetraio specializzato in quel periodo là, avevo già 21-22 anni, ero già a livelli altissimi, proprio per la vocazione per l'arte, lascio le scuole a 15 anni, mia madre mi mette subito a lavorare in una bottega, come si chiamava in quel tempo, ma ancora oggi, di artisti dove apprendo l'arte creativa della vetreria, quindi da lì io mi metto, però frequentavo anche le discoteche, le discoteche le tralascio perché scopro questa verità fantastica, appunto quella di Eugenia e di Giorgio Bongiovanni e mi dedico a questo aspetto spirituale che mi mancava, perché con loro riscopro tutto quello che io vedevo da piccolo, gli dava una spiegazione, quindi vengo a prescienza del messaggio di Cristo, del messaggio della Vergine Maria e del messaggio delle ex terrestri. E' ancora molto diffuso, scusa se ti interrompo solo un secondo, il fatto di non abbinare le due realtà, cioè la realtà magari del messaggio spirituale, del messaggio cristiano, dei Vangeli con la realtà extraterrestre. Poi c'è molta ignoranza… Magari ci parlerai più diffusamente di questo. Come scusa? Assolutamente sì, purtroppo c'è un'imposizione da parte dei poteri forti dove vogliono che in tutti i modi l'umanità rimanga evviva nell'ignoranza più assoluta, quindi quando uno fa un paragone tra ex terrestri e queste altre sfere spirituali la gente fa rigetto, ma è normale, non c'è informazione, quindi è come parlare a un bambino della prima elementare di fisica contistica. Di cosa stiamo parlando? Diciamo che già di per sé anche da solo il tema della visita extraterrestre è un tema molto osteggiato, viene deriso, viene insabbiato, nonostante il fatto che ci siano, come sappiamo, sarebbe strano ciò, un po' in tutti i paesi dei nutriti di tante casistiche file secretati proprio relativi a questa tematica, la tematica degli oggetti volanti non identificati e della presenza di esseri, di possibili esseri di altri pianeti. Assolutamente sì, le informazioni ce ne sono tante e che purtroppo, come dicevo poc'anzi, è un problema sociale, quindi chi sta a potere e che detta legge in tutti i sensi e conosce perché comunque la verità dei fatti non vuole che l'essere umano prenda possesso della conoscenza, perché fa male, fa male alla loro sete di potere e di fatti c'è una forma di schiavismo collettivo, ma siccome Dio esiste è anche vero che c'è un risveglio generale e la gente è stanca di quello che profina questa struttura economica, politica, sociale e internazionale che fa di tutto per censurare la verità. Tu dici fa male al loro potere, perché anche se andiamo un po' a anticipare le cose magari? Poi prenderemo la descrizione, il racconto, però sì sì, prego approfondisci pure. Perché la gente è semplice, una volta che avrebbe in mano la verità in quanto tale non avrebbe più bisogno di andare in chiesa, non avrebbe più bisogno di votare i loro pseudo politicanti e non fare di tutto per arrivare alla fine della morte, per acchiappare, per volere il potere e far star bene i propri figli, ma farebbe di tutto per il prossimo, perché dovrebbe scoprire con la vita eterna che non siamo soli nel cosmo e che tutto quello che noi alla fine non ci nascondiamo dietro a un dito, tutto quello che noi sentiamo nel profondo del nostro cuore esiste. Quindi i potenti hanno distrutto i nostri sogni, perché i nostri sogni sono collegati con il nostro intimo, come ben sapete con il nostro spirito, ma con la verità. Perché la gente ammazza, stupra, violenta, distrugge? Non perché a volte sono violenti assassini per coscienza, perché lo fanno, lo fanno perché sono ribelli a tutto quello che questa società di oggi impone, con la forza. E quindi ci sono tanti spiriti potentissimi e liberi, di fatto, siamo tutti liberi, ma siamo obbligati a vivere in schiavitù, quindi secondo il proprio carattere e la propria evoluzione la persona poi si adatta al sistema e cerca di difendersi in qualche modo. La gente va fuori di testa perché non è libera, ma se avesse la libertà tra le mani sarebbe, tu ti puoi immaginare. Quindi qual è questa, se vogliamo anche approfondire, già l'abbiamo accennato, tu hai detto la gente verrebbe a con una parte, no, delle verità che avremo conoscendo questa realtà. Tu hai detto, conosceremo che noi siamo eterni, che noi siamo liberi e altre cose. Tu, questa realtà, queste determinate anche verità, soprattutto il lato spirituale, come hai accennato prima, cioè l'hai realizzata attraverso la conoscenza di Giorgio Bongiovanni, che ricordiamo ha un'esperienza mistica, e il contattista Eugenio Siracusa. Più che altro penso con Giorgio Bongiovanni, giusto? Se ci puoi raccontare. Io sono onorato di, magari per gli ascoltatori che ascoltano ora, posso passare anche da fanatico, ma non me ne frega niente. Io sono diretto, Mauro mi conosce. Certo. Sono onorato di servire, nel vero senso della parola, uno strumento del cielo come Giorgio Bongiovanni, perché ci ha, non mi ha, ci ha dimostrato a tanti di noi, in Italia siamo tanti e anche nel mondo, chi è questa persona. Quindi, essendo lui parte integrante del progetto di Dio, possiamo solamente dire grazie, perché ci ha, in un modo così semplice e carismatico, ci ha raccontato cosa è Dio, cosa sono i suoi progetti, cos'è l'umanità e cos'è la vita nel cosmo. Poi ovviamente io sono facilitato dal fatto che, avendo esperienze fin da piccolo, ho punti a vantaggio in confronto a tanti altri, lo riconosco. Ma è anche vero che questo personaggio che porta i segni fisici di Gesù Cristo, Gesù Cristificato, che è diverso, siamo fortunati. Fortunati è degno di attenzione a questo personaggio che lo supportiamo e in qualche modo cerchiamo di essere utili al suo percorso, alla sua missione. Ma di questo magari ne parliamo dopo. Certo, è importante sicuramente poi il messaggio che porta Giorgio Bongiovanni, perché poi viene coniugato anche con un forte impegno civile, per cui è anche portatore di una forte e estrema coerenza nell'impegno civile che ha, nelle battaglie che sta portando avanti, anche nel campo del contrasto alla corruzione, alla mafia. È un messaggio veramente a 360 gradi che invitiamo tutti i nostri ascoltatori, ovviamente, ad andare a conoscere, qualora non abbiano ancora saputo abbastanza di questa figura molto importante di questi nostri anni, di questo nostro tempo. Ricordiamo a questo proposito, visto che siamo entrati in argomento, che Giorgio Bongiovanni riceve le stimmate nell'anno 1989. 1989 è un anno veramente di snodo per la nostra umanità. Nel 1989, ricordiamoci, cambia il mondo, cade il muro di Berlino e si presenta all'umanità a questo segno, perché recatosi sotto invito di un'esperienza mistica, Giorgio Bongiovanni riceve l'invito da parte della Vergine Maria a recarsi a Fatima, perché lì, così gli disse in questa esperienza mistica, la Vergine Maria, avrebbe ricevuto un segno. Mai avrebbe potuto pensare, Giorgio Bongiovanni, che si sarebbe trattato del segno delle stimmate. Alla presenza, ovviamente, di testimoni, i testimoni che erano lì presenti, è stato anche filmato, è il momento in cui avveniva questo avvenimento assolutamente fuori dal normale. Successivamente. Prego, prego, prego Antonio. Unico nel suo genere. Assolutamente, nei nostri anni. Ricordo anch'io quando lo seppi, quando veni a conoscenza di questo, come rimasi esterrefatto, perché da sempre ero stato portato ad avere interesse per il fenomeno degli extraterrestri, del contattismo. Ho seguito le trasmissioni, seguivo un poco Eugenio Siragusa, ma essendo di Roma, seguivo le trasmissioni di Ofemmio Del Buono, che forse qualcuno all'ascolto ricorderà, che faceva, appunto, in una piccola tv privata romana, parlava di queste tematiche che aveva portato avanti da Eugenio Siragusa, quindi di questi esseri angelici che ci visitavano per aiutarci, aiutare il nostro pianeta e la nostra umanità ad evolvere secondo dei valori che poi erano gli stessi che erano stati portati da Gesù Cristo duemila anni fa. Prego, prego Antonio, ti ho interrotto. No, più che ho interrotto hai fatto un po' chiarezza di quello che è Giorgio Bongiovanni e io sono felicissimo. E ti dico una cosa, mi emoziono sempre, ogni volta che io sento la storia di Giorgio Bongiovanni, sarò forse pazzo, forse perché vedo le astronavi, non lo so, ma è una cosa talmente forte di impatto sullo spirito dell'essere umano che se tutte le persone prendessero coscienza di chi è Giorgio Bongiovanni, io penso che il mondo cambierebbe nel giro di 48 ore. Indubbiamente, Giorgio Bongiovanni riteniamo che rappresenti una grande opportunità per un ampliamento della propria coscienza e del proprio impegno per far andare meglio le cose in questo nostro mondo. Per cui invitiamo ovviamente tutti ad approfondire, coloro che vogliono, il messaggio di cui Giorgio Bongiovanni col suo sito giorgiobongiovanni.it è portatore. Ma io guarda, non perché lo voglio elogiare, ma per me è un'espressione purissima di Dio, Giorgio, e quindi in quanto tale io lo riconosco come tanti di noi, perché lui al di là di tutto quello che ci impressiona non è tanto il segno che è importante, ma è l'opera. Assolutamente. La produzione, il prodotto, quello che tira fuori lui e che fa nel mondo da 30 anni, non è normale. Con una dedizione assoluta, insomma. La sua vita è stata tutta dedicata a questo, a questo messaggio, assieme a tutta la sua famiglia, assieme a tutti i suoi averi, ha messo tutto in questa divulgazione importante, come dicevamo prima, divulgazione a 360 gradi. Mauro ha lasciato tutto, tutto ha lasciato, e per questo Dio l'ha premiato e l'ha dato tutto di fatto, perché la sua famiglia lo ama e lo segue. Quindi come atto di fede e di amore nei confronti di Dio, Dio altrettanto ha dato tanto amore a lui e il risultato lo abbiamo tutti sotto gli occhi. Noi gli mandiamo un caro saluto e lo abbracciamo tanto. Assolutamente, un caro saluto a Giorgio. Quindi Antonio, tu appunto hai incontrato Giorgio che ti ha fatto comprendere che questo tuo, queste manifestazioni da parte di questi esseri di altri pianeti appunto non era una manifestazione semplicemente oggettiva scientifica, ma appunto aveva un significato ulteriore che è quello spirituale, giusto? Che si collega appunto anche alla missione di Giorgio, che è anche quella di parlare della seconda venuta di Cristo, della visita anche di extraterrestri, giusto? Quindi tu collabori in questo senso nel divulgare questo messaggio, giusto? Assolutamente sì, io infatti non andavo solo come lui sostiene ancora oggi, lui mi ha detto che alla base della visita extraterrestre non c'è solo un aspetto tecnico scientifico, ma una profonda valenza spirituale e di fatti è la base del fenomeno, la visita extraterrestre non è solamente per scopi scientifici, perché poi gli esseri non hanno scopi scientifici nei nostri confronti, ma eventualmente hanno un occhio di riguardo per la salvaguardia del pianeta e del suo enzima, quindi l'uomo, perché il pianeta Terra è considerato una macrocellula nel cosmo, nel corpo cosmo, è come avere il nucleo centrale di un atomo, ci sono gli elettroni, i neutroni, i protoni che girano attorno, a livello microcosmico c'è l'atomo, a livello macrocosmico abbiamo il sistema solare, per poi passare alle galassie e a tutto quello che c'è a livello universale, quindi la cosa è molto complicata, ma altrettanto semplice, perché se viene spiegata nella giusta maniera, tutte le persone e nessuna scusa li può dare un senso a tutto ciò, però purtroppo c'è l'arroganza e la presunzione prevale sull'essere umano, quindi a volte ci troviamo a scontrarci con duri di collo dove per quanto vuoi mettere sul tavolo gli elementi oggettivi, non astratti, quindi solo come atto di fede uno deve credere, si sta parlando di scienza, si sta parlando di fatti oggettivi e la gente purtroppo fa ricetto perché non ha una preparazione spirituale forte da dire, ah cavolo, è anche l'umiltà di accettare determinati valori. Sì, è molto importante questo che stai citando perché vogliamo ricordare amici ascoltatori, magari non ne abbiamo parlato a sufficienza fino ad ora, ma per esempio Antonio è artefice di 9000 filmati in tutto fino ad oggi, quindi saranno anche aumentati, quindi sono stati analizzati, raccontaci anche questo aspetto perché sai c'è anche chi ha bisogno giustamente di un ragionamento anche razionale a supporto di queste esperienze che tu vivi. Beh Mauro, alla fine non è tanto sbagliato perché di fatto io filmo astronavi e l'aspetto tecnico scientifico è un po' quello che rappresenta quello che desidera l'essere umano, cioè l'essere umano vuole questo, poi ovviamente e purtroppo dico ahimè non è per tutti questo discorso spirituale, per quanto noi cerchiamo e ci sgoliamo e chi prima di me e ancora oggi lo fa egregiamente, io sono una new entry nella vita di Giorgio Bongiovanni, per quanto c'è tutta la volontà di fare, noi cerchiamo di fare da tantissimi anni un'opera anche di informazione corretta, perché è vero che c'è un aspetto tecnico scientifico che interessa a tutti, quindi vedere l'astronave, come funziona, come è fatta e tanti altri aspetti, ma a me interessa, da quando ho scoperto questa verità meravigliosa, a me interessa capire chi c'è dentro, cosa vuole, da dove viene, il pericolo è qua, quindi io posso parlare sì di astronavi e ti dico in questi anni con Giuseppe Garofalo ci siamo veramente divertiti, ma anche insieme al grandissimo amico e fratello ricercatore che tutti conoscete Pier Giorgio Caria, non male che dopo tanti anni diventi anche amico, io l'ho conosciuto grazie a Giuseppe Garofalo, io ho conosciuto prima Pier Giorgio Caria, poi Mara Testa Secca, che è Giorgio Bon Giovanni, poi Giorgio Bon Giovanni, mi ricordo anche di novembre del 2005, e io ho presentato il mio materiale che alla fine era, per quanto dentro di me c'era un aspetto spirituale profondo, perché poi io con la scoperta nel 93-94 di Giorgio Bon Giovanni, ho diciamo, sono stato appagato di quello che lui scriveva e diceva, perché davo una valenza anche spirituale, io sono andato lì con il materiale tecnologico, nudo e crudo, presentavo le astronavi, da lì invece in verità mi si è aperta, sai quando ti danno fuoco, quando dai fuoco e prendi fuoco tutto, da niente, sono rinato, sono rinato e dici cavolo, non me ne frega niente di tutto quello che è il contenitore, mi interessa chi l'ha costruito, cosa vuoi? Hai completato il senso, hai ovviamente dato un senso in realtà a quelle esperienze, il vero senso che aveva quell'esperienza, no io mi riferivo unicamente all'analisi della veridicità dei filmati, l'analisi al computer, ecco insomma come a dire che si tratta di effettive riprese di oggetti presenti nel cielo che non corrispondono né come movimenti, né come tipologia a quelli che sono i veicoli convenzionali terrestri. Certo Mauro, è molto importante, io poi purtroppo scusami ma per tendenza mi dilungo sempre a parlare e chiacchierò troppo. No no tranquillo, siamo qua a posto. Sì, voglio rispettare anche i tempi dell'intervista, quindi posso dire che è molto importante anche l'aspetto tecnico perché capire quali sono gli oggetti, come sono fatti, come si manifestano, c'è tutta una licitura, c'è anche l'ABC del contatto, non è casuale ma è causale, cioè gli esseri quando si manifestano agli occhi delle persone non sono mai per caso, perché c'è dietro un disegno divino. Io poi nel tempo l'ho capito, l'ho capito bene, tu ti puoi immaginare Mauro, io e Ludovica, io da quando sono piccolo che vedo astronavi, c'ho quasi quasi la nausea e oggi ti dico lo faccio per le persone, non più per l'egoismo personale che ho anche avuto quello, la voglia di attaccarmi a questo cordone umbilicale trasparente che mi dava nutrizione, alimentazione quotidiana e quando gli esseri non venivano io stavo male. Cosa ho sbagliato, dove ho sbagliato, voi non vi potete immaginare il mio viaggio, la mia vita quotidiana qual è stata in questi anni, però forte, forte nel messaggio e consapevole del fatto che non è fine a se stesso la manifestazione e io come tanti altri faccio parte di un progetto e è la volontà del cielo, non deve essere la mia, mi sono reso conto effettivamente che non è solamente filmare astronavi, oggi io posso stare fermo anche 3-4 mesi, sono tranquillo, ne ho filmati solamente tanti che ho la nausea, veramente, non mi interessa più, a me interessa il messaggio. Allora, ovviamente nel tempo io ho avuto una proposta dagli esseri, anche verso Giorgio Bongiovanni dove mi hanno chiesto esplicitamente diverse cose, infatti oggi io, permettimi di dirlo, io ho fondato un gruppo, abbiamo formato un gruppo e fondato un gruppo dalla richiesta, poi tra l'altro anche di Giorgio Bongiovanni, che si chiama Contatto Massivo, dove periodicamente, secondo il mio sentire, io le riunisco 60-70 persone, 50 persone e in pieno giorno le astronavi arrivano sui cieli di Milano. Capito amici ascoltatori, qua stiamo parlando di una cosa reale che potete verificare voi, specialmente chi vive lì a Milano, attorno a Milano, potete seguire su Facebook, no? Ci sono anche truppe televisive, vero? Provenienti dall'estero. Assolutamente sì, io infatti ancora oggi sto, rimango incredulo perché fu una profezia di Giorgio Bongiovanni la sera stessa che io la incontrai nel novembre del 2005, Giorgio mi disse, Antonio, tu e Simona, che oggi mia moglie, Simona Sibilla, fonderete un gruppo e farete vedere le astronavi in tutto il mondo e girerete tutto il mondo e così è successo in tempi non sospetti dove ne io ne Simona avevamo una minima intenzione di formare un gruppo, di portare avanti un'opera che non conoscevamo, noi non sapevamo niente. Quindi quando ti senti arrivare queste cose dritte nel cuore e poi oggi riscopri che sono reali, uno si fa anche due domande. Io non è che voglio invitare e obbligare la gente a pensare come la penso io, ma ci sono prove, prove comprovate di fatti che al tempo erano impensabili ed oggi io mi trovo con un gruppo attivo, fantastico, che al di là della divulgazione extraterrestre noi sosteniamo l'opera di Giorgio Bongiovanni organizzando conferenze, organizzando incontri, lavorando poi anche nel sociale perché sosteniamo l'opera di Fulima che è una delle espressioni dell'operatività di Giorgio Bongiovanni e anche di suo figlio Giovanni Bongiovanni. Si stignano i bambini bisognosi, certo. I bambini bisognosi, quindi noi siamo appagati perché come gruppo ci sono tantissime anime fantastiche all'interno di Contatto Massivo e anche di Arca a Milano, ma è un altro discorso. Io posso dire che sono soddisfatto e anche se passiamo tempi drastici, tutti noi nel mondo, perché tutti viviamo nell'intensità della materia con le sue tentazioni, le sue problematiche, io con quest'opera mi sento appagato perché abbiamo il contatto diretto con il cielo come supporto quotidiano, ma anche conosciamo la verità. Certo. E che è una la verità, non ce ne sono tante verità. Quindi questo contatto massivo appunto mi fa pensare al fatto che un giorno ci saranno, come è stato detto, anche un contatto, cioè queste astronavi si faranno vedere, se non sbaglio, da tutti. Ci sarà un contatto massivo, nel senso che non lo vedranno solo poche persone. Ultimamente gli avvistamenti sono molto aumentati sia in Italia che all'estero, ma saranno visti da tutto il mondo e come abbiamo detto prima, allora tu relazioni questo contatto anche alla venuta di Cristo, alla seconda minuto di Cristo. Ci puoi spiegare questo? E anche come ci dobbiamo preparare a questo contatto? Benissimo. Bella domanda Ludovica. Guarda, io posso dire una cosa, che se oggi l'essere umano tutto conosce la parola UFO ed extraterrestre, deve dire grazie a Cristo, perché se lui, Cristo, non si personificava in Gesù, nato appositamente duemila anni fa, per aiutare questa umanità di oggi alla fine, perché quello che ha fatto Gesù duemila anni fa, l'ha fatto per questa generazione, noi non avremmo mai conosciuto la realtà extraterrestre, perché l'umanità era già destinata all'estinzione. È bene che se lo metta nella testa la gente, perché la visita extraterrestre è prettamente messianica. Non confondiamo poi l'abdation e altre entità che sotto menti e spolli si avvicinano all'essere umano. Quindi dotate anch'esse di tecnologia, non sono da confondere con coloro che arrivano sul pianeta e si mostrano con questi fantastici mezzi e apparati di ricognizione. Molto importante questo che ci dici, ecco, questa distinzione è anche la loro funzione, ecco, come dei portatori di un messaggio, quindi quelli che praticamente, quello che viene chiamato Angelos, Angelos mi sembra abbia proprio il significato di portatore, no? Di messaggio. Assolutamente sì, in greco vuol dire messaggero. Quindi sarebbero, quello di cui si parla spesso nella Bibbia, no? Come sappiamo che molte volte è stato riportato questo da Giorgio Bongiovanni, da Pier Giorgio Caria, da Eugenio Siragusa a suo tempo e anche da te, no? Quindi questi, diciamo, magari i rappresentanti più elevati probabilmente di queste schiere di visitatori non terrestri, vogliamo nominarli così, rappresentano insomma delle figure che sono a metà tra l'umano e diciamo lo spirituale, il divino, no? Potenzialmente lo siamo anche noi, perché noi siamo, carissimo, devi sapere, la gente deve sapere che noi siamo, alla fine è un'espressione di Dio. Certo. Perché Dio si esprime attraverso, diciamo, la sua infinita creazione planetaria galattica universale, ma si manifesta anche nella realtà dei regni inferiori, quindi quello minerale, vegetale e animale e poi in quella del regno umano. Certo, certo, giustissimo. Ecco, noi siamo alla fine, siamo parte di Dio, anche noi siamo la nostra espressione, ma ci sono entità ovviamente a scala piramidale, esseri che hanno avuto un'evoluzione nella scienza con coscienza e sono arrivati là dove dovremmo arrivare anche noi, ma purtroppo ci siamo soffermati ai valori materiali, siamo regrediti e quindi facciamo fatica a digerire queste meraviglie del cosmo, le realtà del cosmo, chi è Dio, chi è Cristo, chi è Gesù. Certo. Chi è Gesù, perché Gesù ancora, cioè, è più vivo di noi Gesù. Quindi non ci dobbiamo spaventare per questo contatto, come ci dobbiamo preparare appunto? Ci dobbiamo preparare seguendo per me, guarda, io un consiglio che do sempre per capire un attimino con chi abbiamo a che fare, bisogna leggere il Vangelo, studiarlo e viverlo. Possiamo dire infatti che sono riportati anche nel Vangelo, un'ulteriore testimonianza, il Vangelo della loro presenza? Ci sono tanti passi del Vangelo dove parla della presenza di questi esseri, anche nella Bibbia, pur se è stata manipolata in un bel periodo particolare della storia umana, con il Consiglio di Micea, alla fine è stato manipolato nel 300 d.C. perché c'erano delle verità all'interno che erano scomode, perché dovevano alla fine, erano scomode al potere temporaneo di quel tempo. Quindi se stiamo a vedere nel Vangelo parla di quello che è in verità l'uomo, l'essere umano e di come si deve comportare. Gli insegnamenti di Gesù Cristo penso che oggi tutti li conoscono, ci sono dieci condannamenti di Dio che sono inviolabili, ma purtroppo l'uomo le viola e quindi abbiamo a che fare oggi con l'essere umano cristiano a comodo, che va solo alla domenica ma non mette in pratica gli insegnamenti di Gesù Cristo. Ecco, questi sono alla base per un'esistenza degna di attenzione da parte di questi esseri e di fatti la visita extraterrestre non è per tutti, perché il cielo vuole la qualità, non vuole la quantità. Certo, insomma, richiama, diciamo, uscì il seminatore a seminare nel senso duemila anni fa, è stato portato un messaggio, è stato portato un messaggio del Vangelo e in questi duemila anni l'uomo era richiesto di mettere in pratica questi valori. Purtroppo, come sappiamo, basta vedere, insomma, il nostro mondo un po' come poverino combinato, sicuramente forse non tutti, una piccola parte magari ha cercato realmente di mettere in pratica questi valori. Ora, quindi, in sostanza, se questi esseri, come diceva Ludovica, sono anche correlati, portano un messaggio di carattere messianico, sono correlati alla seconda venuta di Gesù Cristo sulla Terra. Ben o male, non so se puoi darci un po' una prospettiva di cosa ci dobbiamo aspettare da questi tempi che stiamo vivendo. Cosa dovrebbe fare una persona per cercare di avvicinarsi a queste tematiche e a cosa è chiamato in questo tempo? Beh, io penso che non c'è tanto da insegnare, divulgare al mondo intero tutta la verità. Io penso che la verità arriva là dove deve arrivare. Quindi, dal momento in cui le persone sentono il campanello d'allarme, le persone si risvegliano. Ovviamente noi bisogna fare anche un lavoro di divulgazione, perché se non portiamo informazione la gente non si risveglia. Ma ho visto in questi anni che per quanto urli la verità al mondo intero, solamente una minoranza prende veramente coscienza di quello che è il messaggio. E questo mi indica che è un percorso divino. Noi abbiamo la volontà di fare perché è il nostro compito divulgare a 360 gradi, escludendo nessuno, perché anche l'ultima rotta del carro è indispensabile per far sì che la macchina vada avanti. Però mi rendo conto che le persone si avvicinano da sole e quindi c'è una volontà superiore dove le persone vengono indicate, accompagnate là dove devono arrivare. Quindi io non mi faccio più il viaggio mentale di dire come faccio a divulgare. Ovviamente io mi devo impegnare, nel caso nostro, come associazione Contatto Massivo che mira alla sensibilizzazione della verità con gli insegnamenti di Giorgio Buongiovanni, noi organizziamo conferenze da qualche anno, cerchiamo di dare il massimo. Ma io vedo che a volte mi arrivano delle persone nella vita quotidiana, anche attraverso il lavoro, ma non solo a me, anche a altri ragazzi del gruppo, persone che uno non si aspetterebbe mai da niente e dice ma lo sai ho visto un oggetto, ma perché? Ma io ho visto Gesù Cristo, un'immagine, io sono impressionato perché, come ti dicevo poc'anzi, è un periodo senza precedenti della storia dell'umanità dove c'è un risveglio planetario, c'è una divisione delle acque, c'è una parte negativa che va a rotoli e si sfascia e tutti noi lo vediamo quotidianamente, ma c'è una parte di risveglio internazionale di anime che fa impressione, non è normale, o perlomeno io do un senso al messaggio di Cristo e io sapevo, secondo i messaggi di Giorgio Bongiovanni ricevuti dagli esseri e da Gesù stesso, ma viverla come la stiamo dicendo noi, fa impressione. E' incredibile, io sono estasiato, io anche oggi, oggi, ieri, in questi giorni, in queste settimane sto ricevendo messaggi, mail, messaggi da gente impensabile che si vogliono avvicinare alla divulgazione, rendersi operative per il sociale, per la legalità, ma non è normale, cioè è normale, è bellissimo. E' bellissimo, c'è un grande movimento, c'è un grande risveglio. La gente è stanca, la gente è stanca di quello che propina questa umanità, questa società di oggi, attraverso i miei potenti della Terra. E' il caso di dire alziamo lo sguardo al cielo, guardiamo l'infinità del firmamento, pensiamo a quanto siamo piccoli e a quanto ci può portare in realtà la vita dell'universo e quanto ci può insegnare. Allora, maggior ragione, Antonio, prego, prego. Ma una cosa, ma una cosa importante, più che guardare, alzare gli occhi al cielo, soffermarsi un attimino e guardarsi dentro di sé, perché la risposta è dentro di noi, ascoltare il nostro cuore, i nostri desideri più intimi e allora lì, da lì, siccome guardi il tuo cuore, di conseguenza, di riflesso, guardi Dio e siccome la nostra coscienza è il punto diretto a Dio, l'informazione ti arriva e di riflesso ti arrivi a comprendere le meraviglie del creato, del cosmo, degli esseri, però se una persona non ascolta se stesso, è inutile andare a cercare fuori. Sagge parole, sagge parole, condividiamo, condividiamo assolutamente. Dopodiché una volta che si è svegliato bisogna darsi da fare, altrimenti come lo cambiamo a questo mondo. Certo, certo. Ringroffarsi le maniche. Ecco, alzare gli occhi al cielo e poi anche le manine. Ok, quindi Antonio direi, quindi… Siamo un po' in chiusura, eh? Siamo in chiusura, quindi di dare informazioni sul vostro gruppo contatto passivo, così iniziamo anche a coinvolgere altre persone nell'azione e l'informazione. Ripetiamo, dovete si può seguire, abbiamo detto? Sì, abbiamo citato prima, però ripetiamolo. Allora, potete, cari ragazzi, amici, fratelli, noi abbiamo un gruppo molto attivo sul Facebook che è il contatto massivo ufficiale, official, contatto massivo official che lo trovate su Facebook, poi abbiamo contatto massivo tv e lo trovate su YouTube, poi per informazioni specifiche per l'operatività, perché stiamo costituendo gruppi operativi in tutta Italia. Io ho in questi giorni richieste dalla Liguria, dalle Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lazio, Campania. Fantastico. Tutto, io sto impazzendo. Dicevi anche in Toscana, no? Prima di andare in onda un gruppo nuovo, giusto? In Toscana, un gruppo fantastico che proprio domani sera avrò anche un incontro, e poi l'incontro, diciamo, virtuale per Skype, e poi le incontrerò a fine mese, fisicamente sono circa 30-35 persone, ma è impressionante. Molti giovani si stanno avvicinando, vero? Sì, sì, giovani, ma anche persone, persone, l'avanzato stato di decomposizione tipo me di 45 anni. Allora io sono andata. Benvenga, benvenga anche per costoro, perché almeno si rivivificano a questo messaggio. Si rivivificano a questo messaggio. Assolutamente, assolutamente. No, è bellissimo. Va bene, ecco. Quindi allora vi do anche per coloro, visto che stai creando questi gruppi. Per coloro che fossero interessati a fondare, o prima di fondare ovviamente c'è una supervisione, bisogna capire, mi sentite? Sì, sì. Bisogna capire un po' di cose, comunque come primo approccio ci possiamo incontrare e sentirci. Io vi do la mail che è contattomassivo, tutto attaccato, contattomassivo.milanochiocciolagmail.com, contattomassivo.milanochiocciolagmail.com, mi potete mandare la mail, vi risponderanno una delle ragazze, o Simona, mia moglie, o io direttamente, così da organizzare un incontro e poi vediamo, perché c'è tanto… Un incontro nella zona di coloro che ti scrivono, in sostanza, che ti scrive. Sì, certo. E' la cosa bella che io da quando ho intrapreso questa attività di divulgazione, faccio anche questi incontri, sto formando le persone per iniziare a filmare astronavi, per portare effettivamente documentazione, perché la gente ha bisogno anche di vedere, non possiamo vivere sulla notte di atto di fede. Certo, di rendersi conto che è un fenomeno reale, è un fenomeno oggettivo. Certo, io prima, perdonatemi se mi sono soffermato solo sull'aspetto spirituale, ma c'è anche l'aspetto prettamente materiale e che appaga un po' i nostri cuori, i nostri spiriti, perché se noi vediamo, crediamo. Purtroppo l'uomo abituato a vivere in un mare di menzogne, quando si parla di visita extraterrestre, dell'astronave che viene con il plegiano, con la tuta spaziale, sembra veramente un'utopia. Comunque, prego, abbiamo detto anche che ci sono due filmati, anche filmati di altri ricercatori, ci sono documentazioni militari, chi vuole cercare la verità, abbiamo delle indicazioni e comunque la troverà. Un'infinità di prove, bene, siamo… Non è che non l'abbiamo solo trattato in lato spiritale, abbiamo detto anche che ci sono delle prove concrete. Certo, siamo purtroppo, Antonio, arrivati alla conclusione, volevi aggiungere qualcosa? La radio mi perdoni, io devo annunciare che il 26 gennaio a Garbagnate Monastero, a 20 minuti da Milano, il 26 gennaio, faremo una conferenza organizzata da Contatto Massivo e Our Voice, che è un gruppo di attivista fondato da Sonia Bon Giovanni, che poi magari nello specifico potremo affrontare un altro giorno. è un gruppo eccezionale di giovani, un movimento culturale che è contro tutte le ingiustizie umane, abbiamo organizzato questa conferenza a Milano il 26 gennaio in compagnia di Giorgio Bon Giovanni, Pier Giorgio Caria, Marco Marsili e il sottoscritto per fare informazione e partiremo dalle tre e mezzo del pomeriggio fino a notte in oltrata con una cena, quindi chiunque è interessante, ci contatti su contattomassivo.milano.com per avere informazioni, ingresso gratuito. Bellissimo, grande appuntamento, abbiamo sforato come ultimamente stiamo facendo, abbiamo sforato anche questa volta un po' le tempistiche, ci perdoneranno le radio, abbiamo veramente concluso, Antonio Ursi ti ringraziamo tantissimo di essere venuto, speriamo, lo dico spesso a tutti gli ospiti perché ci affezioniamo poi noi sempre agli ospiti che abbiamo qui a cui piede da terra, speriamo veramente sinceramente di riaverti in una prossima occasione qui assieme a noi. Approfittiamo anche per salutare tutti i ragazzi di contatto massivo. Un saluto a tutti i ragazzi. Grazie. Ciao Simona. Un abbraccio e viva Cristo. Ciao a tutti. Ciao, viva Cristo. E viva Cristo. Bene, allora come sempre ci potete scrivere, abbiamo chiuso, ci potete scrivere quindi alla nostra mail qui pianetaterranewskiocciolagmail.com e riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube qui pianetaterra o sulla nostra pagina Facebook. Benissimo e allora ci sentiamo alla prossima puntata, non tra molto tempo, ai primi di febbraio, sempre su Radio Outmark e viva Radio Sardegna e il network di Radio Saiuz ed emittenti collegate. A risentirci. A presto, ciao a tutti.